E' stato inserito nella gradutoria definitiva degli ammissibili a finanziamento il progetto di ristrutturazione della scuola media Inveges presentato dall'amministrazione comunale di Sciacca. Il finanziamento richiesto ammonta ad 1 milione e 100 mila euro. L'amministrazione comunale ha partecipato lo scorso giugno all'avviso pubblico dell'assessorato regionale all'istruzione con il progetto di ristrutturazione di un'ala della scuola Inveges. L'intervento per il quale si è chiesto il finanziamento prevede in particolare la demolizione di un piano terra e la realizzazione di un corpo di fabbrica di tre elevazioni accorpato all'edificio esistente. Si amplierebbe in tal modo l'istituto di via Alcide De Gasperi. La gradutoria dei progetti ammissibili a finanziamento è relativa al piano triennale di edilizia scolastica per gli investimenti comunitari relativi al periodo 2014-2020 ed è stata approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale pubblica istruzione e formazione. L'avviso pubblico è messo dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione allo scopo di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà comunale adibiti all'istituzione scolastica statale di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici compresi i poli dell'infanzia e la realizzazione di menze e di palestre. Il progetto della Scuola Media in Vegese di Sciacca è stato elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale.